Come si crea una tensione di riferimento utilizzando un amplificatore operazionale? Buongiorno a tutti e ben ritrovati, oggi andiamo a vedere come poter creare una tensione di riferimento cosa che è molto utile in diversi circuiti che abbiamo già visto utilizzando un amplificatore operazionale questo perché intanto l'amplificatore operazionale mi va a disaccoppiare siccome in ingresso non assorbimento di corrente poi posso sfruttare una delle alimentazioni siccome l'operazionale viene alimentato in modo duale posso sfruttare la PWCC, in questo caso 15 volt per poter creare la mia tensione di riferimento come viene creata? qua abbiamo una resistenza R3 che mi va a protezione del diodo che può essere tranquillamente di 500 ohm su una tensione di 15 volt tanto viene più o meno sui 30 mA la corrente per il diodo Zener diodo Zener che possiamo supporre prendere ad esempio una tensione di Zener da 2.5 volt che andrà nel terminale valore che andrà sul terminale non invertente che quindi lo terrà fisso a quel valore sulla retrazione negativa abbiamo R2 ed R1 quindi abbiamo una configurazione non invertente in uscita avremo la nostra tensione Vref quindi avremo che la Vref sarà 1 più R2 fratto R1 per il valore di Vz che è appunto in questo caso 2,5 dobbiamo sempre fare attenzione che ovviamente la Vref non può essere maggiore della tensione di saturazione dell'amplificatore operazionale quindi è molto importante che Vref sia minore della Vsat come possiamo andare a ricavare questa Vref andando semplicemente a dimensionare R2 fratto R1 ci verrà fuori a seconda del valore che io voglio di tensione di riferimento un rapporto, la relazione tra R2 e R1 generalmente per semplicità si pone R1 uguale a un K e si va a ricavare R2 facciamo degli esempi io voglio avere ad esempio una Vref di 8 volt quindi dovrò avere un valore di 1 più R2 fratto R1 R1 pari r1 per 2,5 pari ad 8 quindi avrò che la mia R2 fratto R1 dovrà essere uguale a 8 fratto 2,5 il tutto meno 1 e quindi dovrà essere pari a 2,2 in questo caso è piuttosto semplice perché impongo il valore impongo R1 pari a 1 K e quindi R2 viene 2,2 che è un valore standard valore standard dei resistori facciamo un altro esempio allora in questo caso vado a altro esempio voglio una Vref di 6,32 6,32 volt allora vado a copiarmi questa parte qui la possiamo anche mettere qua quindi 6,32 e quindi avrò che R2 fratto R1 sarà uguale 6,32 fratto 6,32 fratto 2,5 il tutto meno 1 e qua mi viene 1,528 allora in questo caso posso sempre imporre impongo R1 uguale a 1 K e quindi R2 posso metterlo 1,5 K trascuro quei decimali e non commetto un grosso errore 1,5 1,53 1,5 ma se il valore del rapporto tra R2 e R1 mi viene un valore in cui non ho poi un valore standard di resistore come posso fare? anche questo è un valore standard un po' approssimato ma comunque è un valore standard approssimo quindi prossimo se invece ad esempio terzo esempio facciamo pure F pari a 5,8 volt in questo caso avrò che allora questo per 2,5 deve essere uguale a 5,8 e quindi il rapporto R2 fratto R1 deve essere 5,8 fratto 2,5 meno 1 qua mi verrà 1,32 allora in questo caso io come valore standard ho 1,2 e sono un po' lontano ho 1,5 e sono un po' lontano allora come faccio a realizzare? come lo realizzo? allora impongo sempre questo uguale a 1k che è la cosa più semplice ma R2 lo realizzo in questo modo avrò che la R2 è composta può essere composta da due parti in serie in cui avrò una parte che è un resistore fisso che lo chiamo R2 fissa che sarà ad esempio uguale devo realizzare 1,32 quindi posso mettere un 6,80 ohm e poi la parte invece R2 variabile che utilizzo un trimmer da 1k quindi posso andare a regolare il mio trimmer in modo da riuscire ad avere appunto 1,32 quindi posso scegliere un trimmer da più o meno andare a fine corsa quindi a metà corsa quindi 1,2 1,5 1 va bene bene spero che tutto questo vi possa essere d'aiuto fatemelo sapere nei commenti se è tutto chiaro e ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione